Gran casino storie di chi gioca sulla pelle degli altri. Allora un'iniziativa importante perché oggi sta prendendo sempre più piedi, si diffonde allora questo gioco, che insomma è lo gioco d'azzardo, su cui è necessario un po' fare una riflessione comune, rappresentando un po' quelli che sono i problemi e anche naturalmente riflessi, soprattutto sul mondo giovanile. Certo, la nostra associazione ormai è da più di un anno che si occupa di questo tema. Recentemente la ASL ha riconosciuto il gioco d'azzardo patologico tra le dipendenze da curare e quindi da tenere nell'ambito delle cure del Servizio Sanitario Nazionale. La dirigente della nostra equip di esperti ha già svolto un'indagine con dei questionari che sono stati distribuiti nelle scuole. E allora nell'occasione del quarantennale della fondazione dell'associazione abbiamo voluto donare soprattutto agli studenti, saranno presenti gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori di Civitavecchia, sono già 600 ragazzi che sono stati invitati a partecipare a questa rappresentazione teatrale che è stata già portata all'attenzione nazionale e addirittura è stata rappresentata anche alla Camera dei Deputati. È una compagnia teatrale che farà riflettere e interagirà nel corso della manifestazione con il pubblico. Noi abbiamo realizzato in quest'ultimo anno un progetto all'interno delle scuole, collaborando con quattro ragazzi del servizio civile, giovanissimi. In più c'era un ragazzo che sta facendo il tirocinio come psicologo da noi. Loro hanno costruito un doppio questionario e abbiamo raccolto quasi 2200 questionari. L'indagine indagava quello che è l'approccio dei giovani dai 13-14 anni ai 19 anni rispetto al gioco d'azzardo, perché non possiamo parlare in una fascia d'età così giovane di patologia. Gran parte dei ragazzi giocano online nel privato della loro stanza con le prepagate, quindi sono veramente tanti. Tutto questo però non è immerso se non magari in una situazione di dialogo con i ragazzi o con le classi.